ah lì in fondo oh scaroro aspettate preso preso ah frai che cazzo io non ho capito niente che cazzo è ammazzato spammato con l'rpg contro quelle mura di merda quanto kill hai fatto? 4 ma siamo alle luci di natale vi siete da lontano i drop ma che belli